Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora ragazzi quest'oggi andremo avanti con il nostro bar E allora abbiamo da innanzitutto concludere il precampionato estivo Affrontando l'ultima partita contro il Luton Town Per capire un po' se riusciremo a trovare la quadra Anche con il nuovo modulo che stiamo utilizzando E poi ragazzi si continua con il calciomercato Perché teoricamente abbiamo altri giocatori che sono stati messi sul mercato Quindi appunto teoricamente bisognerebbe fare altri acquisti Ma prima di tutto ragazzi, prima di fare qualsiasi altra cosa Come sempre vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale Per essere sempre aggiornato e per continuare a supportarmi Anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità A seguirmi sulla pagina Instagram A sostenere il canale tramite un abbonamento e ad una donazione Detto ciò ragazzi direi di scendere subito in campo contro il Luton Town Prima cosa da fare quest'oggi è assolutamente questa partita Allora vorrei giocare con la formazione migliore Perché questa è sicuramente l'ultima partita del nostro precampionato Quindi Brenno, Frepali, Torval, Vicari, Bartesaghi e Dorgu E Giumà, Nonge, Fazzini, Benali, Nasti e Ciauna Ok ragazzi dovrebbe andare bene Questa qui è la nostra tribuna con molti giocatori di questi che dovrebbero anche partire Quindi ragazzi dai tutto pronto Come sempre vi mostrerò semplicemente i gol Perché si tratta di un'amichevole estiva E quindi andiamo in campo Ok Giumà, bella vada recuperata, Nonge Riesce a servire Nasti che si gira molto bene Nasti Nasti è passato bravissimo qua col sinistro La mette fuori ma sarà calcio di rigore se non ho capito male Perché a giudicare dalla reazione del giocatore del Luton Town Del capitano del Luton Town Direi che è stato fischiato fallo Sì ragazzi vabbè sono i classici falli che dà il gioco Nel senso i falli di FIFA praticamente Comunque calcio di rigore per noi Ciauna dal dischetto che effettivamente è colui che ha la statistica migliore Quindi proviamo a segnare col lui Ciauna andrà col sinistro Spiazzato il portiere 1-0 Siamo in vantaggio contro il Luton Town Ok ragazzi termina anche il primo tempo Devo dire che stiamo facendo un'ottima partita Teoricamente sulla carta la scuola più forte dovrebbe essere il Luton Town Però tutto sommato non si sta notando E oggi Puskas Puskas appena messo in campo riesce a passare Puskas col destro Trova ancora il gol Ricordo che anche nella scorsa puntata era riuscito a segnare Ci riesce anche quest'oggi 2-0 Segna Puskas ragazzi Evidentemente da subentrato potrebbe essere un'ottima carta questo giocatore E occhio ragazzi che si chiude in attacco Con questo calcio d'angolo per noi Menezzo verso Puskas Grandissimo cross Ma soprattutto grandissimo colpo di testa Addirittura Puskas che fa doppietta E chiudiamo questo campionato estivo Con Puskas che in pratica è il nostro capocannoniere Così a sorpresa Comunque a proposito di fischio finale Infatti arriva l'intervento dell'arbitro Finisce qua la partita Ci regaliamo questa bella soddisfazione Battendo il Luton Town Però ragazzi sicuramente Non siamo riusciti a vincere proprio la competizione E infatti ragazzi ce lo dice anche la dirigenza Anche se sembra non abbia molto chiaro come funzionasse Come funzionasse la competizione Diciamo così Comunque allora ragazzi Adesso l'unica cosa che possiamo fare è andare avanti E aspettare altre offerte Però per i giocatori che ho sul mercato Perché adesso allora Due giocatori si potrebbero prendere Perché comunque nella scorsa puntata Maita l'abbiamo venduto Quindi un altro centrocampista si potrebbe prendere Uno fra Ginentis oppure Nuama Perché ragazzi abbiamo detto che Ci serve anche un altro centrocampista E alla fine vedendo un po' tutto Secondo me Nuama è il giocatore più interessante Adesso andremo a vedere anche nel dettaglio E poi ragazzi si potrebbe prendere il portiere sostituto di Brenno A proposito di Brenno Qui arriva un'offerta Che però io vado a rifiutare Un'offerta araba addirittura Comunque ragazzi allora Vediamo un attimo perché Secondo me questo portiere rimane interessante per noi Quindi io vorrei provare a prenderlo Come secondo di Brenno Tanto i soldi più o meno ci sono Sì assolutamente Sia per prendere i centrocampisti Che per prendere il portiere Comunque allora Tu quanto puoi costare? Non voglio spendere troppo Facciamo 600.000 Vediamo se è troppo poco Sì È la seconda volta consecutiva Che succede questa cosa Bravo me Comunque allora Il centrocampista Allora visto che ho venduto Maita Mi è rimasto Lulic Infatti sta ancora qui Lulic Ma secondo me È meglio prendere Prima il mancino Quindi Abbiamo visto che Ginentis potrebbe essere Effettivamente un profilo interessante Come sostituto di Nonge Perché poi abbiamo Allora questo Sanchez Che però Sanchez Vabbè comunque Che è un po' troppo forte Però perché 67 andrebbe troppo A pestare i piedi A Nonge Ginentis invece Un 61 Non darebbe fastidio a nessuno Poi Non abbiamo più nessuno Praticamente Quindi Alla fine della fiera Eccolo qua Nuama Tra l'altro ragazzi Nuama Secondo me Secondo me Come sostituto Potrebbe rivelarsi Veramente un bel acquisto Comunque ragazzi Io voglio provare A prendere Ginentis Quindi vado A trattare con il Torino Stiamo parlando di un giocatore Lituano Quindi Anche questa particolarità Potrebbe essere interessante Ovviamente ragazzi Non voglio spendere molto 700.000 Va bene Ok Accettati subito addirittura Ok Pensavo di dover spendere Molto di più Comunque Non c'è problema Alla fine Sono cifre abbastanza piccole Per questi giocatori Che sono Semplici sostituti Comunque Giustamente Vuole essere sporadico Quindi non darà fastidio Anche se sicuramente Le sue presenze Le farà Perché Comunque è un sostituto E quindi dovrà Entrare in campo Lo stipendio Allora Togliamo il bonus 2.5 Mi va benissimo Qua per arrotondare Ti metto 25.000 E dovrebbe andarti bene E infatti Accetto Ok Il primo acquisto Di giornate è arrivato Si tratta di Ginentis Speriamo che ne possano arrivare Almeno altri due Arriva un'altra offerta Purtroppo è per Nasti Non ci interessa vendere Nasti Assolutamente Per questa prima stagione Lo voglio utilizzare Voglio vedere Se è effettivamente Un giocatore forte Una cosa che ho provato a fare Nella scorsa puntata È invertirlo con Ciaunà Sia Nasti che Ciaunà Non hanno fatto chissà che Però Non arriva mezzo offerto Ragazzi Tra l'altro Per Ricci A me interessa Lunic Cioè cavolo L'ho messo sul mercato Vabbè Ma adesso vediamo un attimo Comunque stavo dicendo Ho provato ad invertire Ciaunà e Nasti Ho notato poca differenza Perché Non sono stati molto coinvolti Nella partita precedente Soprattutto Nasti Anche se Si è procurato il rigore Però ragazzi Bisogna capire un attimo Perché io sono sicuro Che Ciaunà A lungo andare Si rivelerà Un ottimo attaccante Per la nostra idea tattica Invece Nasti Bisognerà capire un attimo Comunque Arrivano offerte Per Giacomo Ricci Che io non voglio Vendere per questa stagione Quindi Tutti i discorsi Per lui Saranno rimandati All'anno prossimo Peccato che non arrivano Le offerte Per i giocatori Che vorrei effettivamente Acquistare Però ragazzi Questo non mi ferma Innanzitutto Ci riprovo Con questo portiere Per l'ennesima volta Vediamo se stavolta Riesco A trovare un'intesa Visto che non voglio Rischiare Di far saltare Per la terza volta La trattativa Parto da 7.50 Ok Voglio una Cic Voglio una Cic Va benissimo È un giocatore Che devo vendere Facciamo così Scambio secco Alla pari Perfetto Sono d'accordissimo Guarda se me lo dicevano Prima Risolvevo un problema Perché abbiamo perso Veramente tempo Per prendere questo Giovane portiere 18enne Un 62 Deve fare il sostituto Anche se ragazzi Potrebbe avere Un pochino di spazio Cioè bisognerebbe Provare ad integrarlo In qualche modo Adesso lo stipendio Vabbè se ti lasci 500 euro Che mi dici Che ha un'offerta equa Perfetto Non prende manco nulla Comunque ragazzi Adesso teoricamente Ci mancherebbe Solo il centrocampista Un altro centrocampista C Vabbè comunque È uno scambio Quindi è una valutazione Particolare Io a prescindere Da tutto Nuama Voglio provare a prenderlo Per evitare anche Che venga acquistato Da altre squadre O cose del genere Visto che ci sono I soldi a disposizione Io provo A fare questi acquisti Abbiamo tanti giocatori Anche tanti prestati Quindi sicuramente Servirebbe fare un po' di pulizia Anche a gennaio Molti giocatori Verranno richiamati Dal prestito Quindi ragazzi Per il momento Continuiamo ad acquistare E poi si vede Allora Nuama Nuama viene via Con 7,50 Vediamo Sì che viene via Voglio una clausola Dell'1% Che io tolgo Ripropongo 7,50 Che vengono subito Accettati Ok Adesso andiamo a trattare Direttamente con i ragazzi Un 17enne Un 61 Sicuramente Ha tanti tanti margini Per crescere Deve fare il sostituto Di Fazzini Però ragazzi Sono convinto Che un giocatore come lui Anche a partita in corso Potrebbe fare La differenza Comunque direi Anche per te Un bel 500 euro A settimana Non prendi nulla Perfetto ragazzi Veramente Noccioline Così non intacchiamo Neanche sul budget Comunque Anche la faccia fatta bene Se non l'ho visto male Quindi abbiamo preso Secondo me Un mini fenomeno Soprattutto in prospettiva E teoricamente Ragazzi Adesso il nostro mercato È da considerarsi Concluso Perché Se andiamo a vedere Poi ruolo per ruolo Io ho fatto tutto quello Che volevo fare Adesso ve lo mostro anche Perché importa Abbiamo Allora Brenno Primo portiere Ovviamente Con Bedfian Secondo portiere Che speriamo Possa avere il più spazio possibile Vediamo un po' Cosa succederà con lui Questo pissardo È ancora sul mercato Aspettiamo offerte Trezzini sinistri Ricci E Dorugu Vanno benissimo Bartesai Che diventa ufficialmente Un difensore centrale Guadagna anche un punto per ruolo E sta per diventare Anche un 66 Perfetto Facciamolo crescere Il più in fretta possibile Ovviamente Farà coppia Con Vicari Per questa prima stagione I due sostituti Sostituti Di Cesare E Zulzek Con Ovviamente Matino Che è ancora sul mercato I direzzini destri Dorvall e Pucino L'unica posizione Non abbiamo dovuto toccare nulla Il Cdc E Juma Come primo Cdc Che devo dire È un'ottima scelta Ragazzi È effettivamente È un giocatore molto solido A meno da quello che ho visto Nelle amichevoli Comunque Il suo sostituto Sarà Kotsukiais Qui che deve ancora diventare Un Cdc Ormai ci manca poco Secondo me Qualche settimane Ci siamo Alla fine Poi Centrocampisti effettivi Allora abbiamo Lulic Che è ancora sul mercato Fazzini E Nuama Sul centro-destra Come titolare E sostituto Tra l'altro ci mette un po' A salire Nuama Ci mette un po' A diventare Un 62 Ma speriamo che possa crescere Perché secondo me ragazzi Questo è forte Poi abbiamo Ginentis Che lo metteremo Sulla sinistra Ginentis Che farà Da riserva Al Buon Nonge Eccolo qui Poi ragazzi Come detto Lulic è l'unico Da vendere Ghibre Verrà richiamato sicuramente A gennaio Poi abbiamo Menez Che è un po' Il nostro jolly Diciamo che È la sua ultima stagione Quindi Proviamo a farlo chiudere In gloria Diciamo così Benali E Aramu I due C.O.C. Callon Verrà sicuramente Richiamato da prestito A gennaio Stessa cosa per Sibilli E adesso passiamo E c'entra avanti Perché abbiamo Puskas e Dio Di Anzi Scusate Che dovrebbero essere I due sostituti Di Ciauna E Nasti Nella speranza Che Nasti Riesca Ad incidere un po' Di più Ovviamente Morachioli È ancora sul mercato Speriamo che arrivi Qualche offerta E quindi ragazzi Vi ho fatto anche Il resoconto A questo punto Non è una cosa Che possiamo fare Andare avanti E sperare Che accada qualcosa Sì Arriva un'offerta Ma è per un giocatore Che non ci interessa Vendere Quindi Ragazzi Mi sa Che Lulic E compagnia Bella Lì Resteranno con noi Almeno Fino a gennaio E ok ragazzi Ci siamo È il momento Dell'esordio in campionato Proprio contro i Brescia Ex squadra di Nuama Che abbiamo appena acquistato Anche se Partirà dalla panchina Quest'oggi Giovane Centrocampista Italiano Questa è qui La nostra formazione Per questa prima partita È comunque La formazione Che ha appena battuto Cioè comunque È passato quasi un mese Nella Nel In questo multiverso Però comunque La squadra che ha battuto Il Luton Town In Coppa Abbiamo avuto Molto più tempo Per allenarci Quindi secondo me La squadra è pronta Per fare Un'ottima stagione Quindi ragazzi Tutto pronto Iniziamo Il nostro campionato E occhio Nasti Palla per Ciauna Che può far correre Dorgo Adesso si Che ha spazio Dorgo Dorgo Arriva sul fondo Può provare anche a calciare Arriva addirittura Il gol di Dorgo 1-0 Bario in vantaggio Prima azione Costruita come si deve Primo tiro in porta Riusciamo a mettere Il pallone dentro Siamo in vantaggio Segna addirittura Il primo gol ufficiale Il terzino sinistro Dorgo Che secondo me Spesso Lo vedremo In avanti Stessa cosa Anche per Dorval Dall'altra parte Con questo modulo Che non ci sono Le ali È inevitabile Che tendino Ad inserirsi Anche i terzini E ok raga Termina il primo tempo 1-0 All'intervallo Per noi Tutto bene Che siamo in vantaggio Però ancora attaccanti Che non li vedo Molto coinvolti E soprattutto ragazzi Devo dire Che Nasti È molto lento Faccio veramente Fatica con lui Qua bravissimo A recuperare A recuperare Palla Bravo Nasti Benali Può avanzare Benali Benali va col destro Qui bravissimi Ad approfittare Di questo errore Difensivo del Brescia Benali Batte Le zerini E trova il gol Del 2-0 Gol del raddoppio Bene così ragazzi Bravissimo Benali Riguardiamo Vabbè qua non si vede La palla recuperata Da Nasti Ma sicuramente Ci sarà visto Nel video Comunque 2-0 Bravissimo Benali A battere le zerini Che forse Poteva fare Qualcosina in più Però ragazzi Qua l'opportunità Per il Brescia Di tornare subito In partita Bella azione Bella conclusione Ma Brenno Si va a trovare pronto Bravo Gli occhio ragazzi Qua improvvisamente Si libera tanto Spazio per il Brescia Palla fuori Qua però Clamorosa opportunità Ma anche clamorosa Svista difensiva Da parte nostra Allora ragazzi Faccio le 5 sostituzioni Un po' particolari Perché faccio entrare Innanzitutto i due attaccanti Quindi Dia e Puskas Menez Come trequartista E a centrocampo Aramu E Nuama Che fa Il suo esordio Visto che siamo anche Contro la sua ex squadra Gli occhio Nuama C'è spazio per Dorval Che può andare Attenzione a Dorval Ve l'avevo detto Che i terzini Sarebbero stati Molto protagonisti Qua Dorval Ha provato il tocco finale Ma sbaglio Ma attenzione Qua errore clamoroso Da parte del portiere E Dorgu Ragazzi Super goal 3 a 0 Doppietta di Dorgu Ma che sinistro Da fuoriare Da parte del terzino X Lecce Bruttissimo errore Del portiere Ma Dorgu ragazzi Che bella conclusione E occhio Di A Può provare ad andare Di A in velocità Bravissimo Qua come è passato Di A Di A effettivamente È quello che cerco Nei miei attaccanti In uno schema del genere Comunque ragazzi Nuama Bello il pallone Dentro Che azione Qua con Aramu Che è proprio il tocco Per Puskas Ma proprio all'ultimo Il Brescia Riesce a salvarsi In un modo miracoloso Peccato ragazzi Sarebbe stato Veramente un bel gol Qua bello il cross Ma le 4 a 0 Bella vittoria per noi Siamo stati veramente Dominanti Soprattutto nel secondo tempo Unica cosa Però ci sono Molte Correzioni Tattiche Che andrebbero fatte Per esempio D'oro così Ha fatto il partitone Però si è stancato Al massimo Quindi questo vuol dire Che attacca un po' troppo Quindi Bisognerebbe Contenerlo un attimo Per evitare Di farlo stancare troppo O comunque Portarmi sempre Un terzino in panchina Perché Effettivamente Anche quello Potrebbe essere Una semplice soluzione Comunque ragazzi Allora Siamo arrivati anche All'ultimo giorno Di calciomercato Che però vorrei mostrarvi Nella prossima puntata Perché secondo me Per oggi abbiamo fatto il noso Abbiamo finito Il precampionato estivo Abbiamo fatto le sorti In campionato E abbiamo avuto Un'ottima parentesi Facendo tre acquisti Addirittura Quindi secondo me Per oggi Come contenuto E durata del video Direi Che può andar bene Comunque Nella prossima puntata Oltre all'ultimo giorno Di calciomercato Affronteremo anche il Parma Che dovrebbe essere Praticamente Una delle squadre Più forti In questo campionato Quindi ragazzi Vediamo un po' Come ci comporteremo Contro i Ducati Praticamente Mi sembra che si Chiamino così Comunque ragazzi Io per l'appunto Per oggi mi fermo qua Come sempre Vi invito a lasciare un mi piace Iscrivervi al canale Seguimi sulla pagina Instagram Sostenete il canale Tra i modi Abbonamento E ad una donazione Noi ci vediamo Alla prossima E ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti